Benvenuti al meteo di Telenuova, domani è venerdì 16 gennaio, la chiesa celebra San Marcello Papa. Forte peggioramento del tempo su gran parte del nord per l'arrivo di una perturbazione atlantica, nubi, piogge e anche temporali sin dal mattino al nord ovest, forti su Liguria, Alto Piemonte, al nord della Lombardia e su tutti i settori alpini e prealpini, qui con neve intorno ai 1000-1200 metri. In giornata peggiora un po' ovunque, con piogge e rovesci diffusi su tutte le regioni, eccetto il Basso Veneto e la Romagna, dove il tempo sarà un po' più asciutto e anche con schiarite salvo deboli fenomeni sul Basso Veneto in serata. La pressione tende a diminuire leggermente, consentendo l'arrivo di aria umida da ovest. Un modesto sistema nuvoloso a carattere caldo procede da ovest verso est, determinando un cielo a tratti nuvoloso ma con bassa possibilità di fenomeni. Gli addensamenti maggiori riguarderanno la campagna, foschie sui settori di pianura, temperature stabili o in lieve aumento, venti da deboli e moderati di scirocco, mari da poco mossi, ammossi.